È la partita più calda della stagione per quanto riguarda il girone C è seconda contro prima, è Vigor per conti contro Lazio Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti alla Vigor Sporting Center Salvati dalla sinistra, va ancora salvati uno sguardo dentro Mette Perschettini che controlla, poi va alla conclusione Decisiva la deglazione di Tappi in corner Reuben, la Lazio attacca ancora alla sinistra, si accentra il numero 3 Lascia il pallone per Gabriele Ricci che va alla conclusione Tiro di pochissimo alto Lancia in avanti per Schettini che è in vantaggio su Zincone Pancora Schettini, Sombrero sul numero 5, Schettini, calcia male De Vincenzo, tocca per Pelle che si sposta il pallone sul mancino Poi va al tiro, sinistro largo, decimo minuto sul cronometro della ripresa Salvati vuole sfondare la difesa rosso-blu, ancora salvati Lorenzi, si rifugia in angolo Calcio d'angolo per la Vigor per Conti Parte Foderà, esce male Orlando, poi sovracordevole, ancora Orlando, poi sulla Aisi, salva la Lazio Lancia in avanti a cercare Schettini, che supera Zincone, ancora Schettini, supera anche a Zarello Schettini, davanti a Lorenzi, Schettini! Magnifico Schettini al ventitresimo, la Lazio avanti, straordinario Schettini, 0-1 Placidi, prende il pallone da fuori, finta, va sul sinistro, tiro largo Calcio di punizione per la Lazio, parte lo spiovente di salvati per Massarut Lorenzi Tiene a galla i suoi Gentili, allarga per Tappi, che arriva prima dell'avversario Ancora Tappi, insiste, mette dentro per Ragazzoni Che non arriva puntuale all'appuntamento con il pallone Berini lancia in avanti Caputo Alle prese col difensore, si gira bene Caputo! Difende la palla benissimo E il diagonale è vincente La Lazio la chiude Finisce qui La Lazio vince ancora Grazie a tutti